Buonasera a tutti i presenti, siamo giunti alla conclusione di questo ciclo di serate di Oltre la Montagna, il gruppo archeologico dell'Alto Vicentino in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sant'Orso e il museo archeologico del Vicentino porta avanti da alcuni anni, questa serie di conferenze legate al Monte Summano e ai suoi dintorni che va a cogliere un po' tutti gli aspetti, non solo quello archeologico, quello storico, ma avete visto anche aspetti naturalistici e ambientali. Questa sera concludiamo, vi ricordo che sempre a fine serata ci sarà la possibilità di visitare il museo archeologico dell'Alto Vicentino con l'annessa mostra di fotografie entomologiche di Fabrizio Lucchini. L'ultima serata è proposta dal dottor Antonio Calgaro, Antonio Calgaro di Costa Pisara, però in realtà dice che io sono orsiano doc, queste origini sono di Sant'Orso, anche se adesso abita fuori, ma dice che io sono sant'orsiano, ci mancherebbe altro e sono orgoglioso di portare una nuova pagina di storia per questo paese, mi diceva. Il dottor Antonio Calgaro è appassionato di storia e archeologia, diciamo lui da 12 anni è presidente del gruppo archeologico Bissari di Costa Bissara, membro della giunta della Federazione dell'Associazione di archeologia del Veneto e da anni lo conosco, collaboriamo, abbiamo fatto parecchi lavori insieme per cui non posso che parlarne bene sinceramente. Per cui lui questa sera è profeta in patria, ci porterà alla luce questa storia di Sant'Orso, la stamperia è la storia, ci vuole essere un assunto, un po' di nuove notizie, informazioni legate all'inizio della stampa che ha avuto origine qui a Sant'Orso, per cui non li porto via più altro tempo e lascio a lui la parola. Per chi volesse, ricordo sempre che in entrata c'è la vendita di testi relativi al Museo archeologico dell'Alto Vicentino, per cui se siete interessati siamo sempre di presenti. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti, prima di incominciare a raccontarvi della stamperia di Sant'Orso, andare nel dettaglio, vi dico quali sono i documenti che vi abbiamo consegnato. Allora c'è una copia dell'articolo che è stato fatto sul giornale di Vicenza oggi, che vi serve come traccia di quello che parliamo. Poi nel fascicoletto avete tre documentazioni, la prima è l'elenco di tutti i libri che sono stati stampati da Leonardo Acates, Giovanni del Reno, Enrico de Sant'Orsio, i tre stampatori che a noi interessano. Questo elenco è molto molto importante, perché dico già da subito, non è importante la storia di chi è venuto dalla Germania, che ha stampato per primo o per secondo, ma quello che è importante, importantissimo, sono i volumi, i libri che sono stati stampati. Sono una fonte, una miniera ancora inesplorata, questo perché ne ho parlato con qualcuno, perché purtroppo per avere uno di questi libri bisogna andare a Bertogliana, che li hanno quasi tutti, però Bertogliana non concede un libro da portare a casa per farci uno studio sopra, per cui sono rimasti lì un tesoro ancora. Però per ognuno di questi libri si potrebbe fare una conferenza o scrivere un libro solo su quel libro. La seconda documentazione che avete è la vita di Sant'Orso. Vedete che c'è una fotocopia da un libro stampato da Enrico de Sant'Orso, un sant'orsano, nel 1493. C'è la fotocopia della pagina del libro che parla della vita di Sant'Orso. È la prima volta che è stata narrata la vita di Sant'Orso. Tutte le altre sono state narrate dopo, o è una copia o è una rivisitazione di questa storia messa in forme un po' romantiche. Quindi quella lì è la vita di riferimento di Sant'Orso e dopo ne parliamo comunque. La terza documentazione che abbiamo sulla vita di Sant'Orso ho fatto la traduzione, perché finora da quattro secoli nessuno ha mai tradotto dal latino questa vita di Sant'Orso. L'ho tradotta e io la trovate fatta un po' come si dice sepedisicuamente, cioè attenendomi a quello che è il testo latino. Risulta un po' così diciamo strana questa mia versione, però chi sa un po' di latino, è un latino abbastanza semplice, capisce come è fatto così bene questo racconto. Pensiamo che siamo nel 1493, quindi nel pieno del rinascimento. Quando scrivevano, scrivevano veramente bene. Poi abbiamo due pagine, le vedete lì, tratte di un altro volume, è stato l'ultimo stampato da Enrico de Sant'Orsio. Le ho sette così, perché vi rendiate conto di come stampavano, poi è anche scritto in italiano di allora, che è mezzo italiano, mezzo dialetto, quindi avete un'idea della forma della stampa, anche l'impaginazione di questo libro. Comunque, tanto così per analizzare un attimo queste due pagine, che poi il volume, che è questo qui, parla, è il summario della luna, lo intitola, è un lunario, mi sembra che tempo fa dicevano ancora lunario, cioè sono le previsioni per gli anni successivi e Enrico de Sant'Orsio ci fa una previsione anche per il 2013, perché lo guarda in avanti, allora, se guardate la prima pagina verso la metà, è scritto, se in dì de Marti sarà calende di genaro, cioè se il primo di gennaio scade di martedì, succede questo, ed è il caso di quest'anno, scade di martedì, primo di gennaio. L'inverno sarà grande, cioè duro, con grande brosema e neve, la primavera e l'estate umida, l'autunno secco, e adesso partiamo, è il formento caro, la vendemmia mediocre, pecore se faranno poche, e poi riprende dopo, vediamo, legumi sarà mediocremente, cioè le previsioni economiche per l'anno prossimo sarà crisi piena, perché poi è anche interessante, perché questi erano i riferimenti di quel tempo, cioè i prodotti che permettevano a loro di sopravvivere, non erano l'automobile o altro, erano questi riferimenti, quando c'erano le pecore per la lana, c'era il lino, dopo parla del lino, che anche quello sarà molto caro, naturalmente il frumento, il vino, eccetera, è importante questa indicazione per farci capire di che cosa loro vivevano allora, bastava che avessero questo ed era sufficiente per sopravvivere. e però nel 2013, trasportato nel 2013, l'anno prossimo sarà un anno di crisi, crisi economica, il PIL diminuisce. Continuiamo, il formento caro, vendemmia mediocre, pecore se faranno poche, ecco, a picco andrà le navi in mare di molte, quindi niente crociere quest'anno, non è consigliabile, a meno che non si riferisca alle barche che arrivano dall'Africa, di questi estracomunitari che vanno dentro nel mare. Ma è un regente sto parlando? E' un regente, si, mettiamo in discussione Enrico e Sant'Urso, insomma, siamo tutti seri qui a Sant'Urso, noi. Leolino sarà caro, ha proprio vestire, ah, sarà di grandi fochi, cioè il suo umano sarà soggetto a bruciare, sarà pestilenzie per molti luoghi in Italia, e quindi neanche la salute, l'anno prossimo, dobbiamo guardarci. Gli uomini sarà mediocremente, ecco, l'unica cosa è che gli oli assai, cioè le olive, ecco, fanno eccezione per confermare la regola, oli assai. Adesso andiamo, sturbamento tra gli romani, sarà morte molte tra le donne, quindi, le manifestazioni a Roma, l'anno prossimo, meglio non andare, soprattutto le donne. Eh, qua in fondo è interessante, allora parla di re e di grandi principi, adesso non ci sono più, ci sono i politici, qui dice, spirano proprio, finita per politici l'anno prossimo. Ecco, se vediamo la pagina, tanto per vedere, bisogna stare attenti, perché qui fa tutta un'analisi poi di tante cose, se in calende di maggio sarà, ossia troni dal cielo, cioè se sarà temporale il primo di maggio, bisogna stare attenti, perché pronuncia in quell'anno, essere moria e gran fame e carestie e guerre e battaglie manifeste. Speriamo che il primo di maggio sia una giornata di soli. Ecco, e adesso andiamo allora a vedere, a raccontare della stamperia della stamperia di Sant'Orso. Allora, ci chiediamo subito perché è importante la stamperia di Sant'Orso. È importante perché è stata una delle primissime al mondo, per elencare la prima in provincia di Vicenza, la tredicesima nel Veneto, la ventunesima in Italia, la trentottesima in tutto il mondo. ma è questione di mesi o un anno o due di differenza, quindi non è una questione di chi arriva primo. Importante è che la stamperia di Sant'Orso è stata la prima che ha portato l'arte della stampa nella civiltà. Ma allora, perché è importante l'arte della stampa? L'arte della stampa è stata la più grande scoperta degli ultimi 2000 anni. a seguito la diffusione del libro, dell'arte della stampa, si è diffusa la scienza, si è diffuso tutto e poi sono venute tutte le altre scoperte. Lo comprendiamo subito, senza libri chi farebbe scoperte. Uno ha bisogno di libri per studiare, poi porta anche cultura, insomma, e quindi un'elevazione della società. Allora, è bene che parliamo per inquadrare la stamperia di Sant'Orso di questa grande scoperta che è stata fatta. E diciamo che dal 1454 al 1456 un tedesco di Magonza, Giovanni Gutenberg, stampa il primo libro. È un avvenimento eccezionale. stampa una Bibbia. È partito un pochettino... è uno dei libri più voluminosi, la Bibbia quindi ha sento qualcosa di un po' pesante. Ed è... ed è il più bel libro che sia mai stato stampato. Il più bello di questo non esiste. perché per, le potete vedere, per l'impaginazione, in modo che sia leggibile, per i caratteri, per l'inchiostro che ha setto, in modo che non tiri gli occhi, per la carta fatta a mano. Il più bel libro che sia mai stato stampato. Finisce di stampare il libro ha sbagliato e ha sbagliato i conti, i conti economici. Deve rimborsare un prestito che ha fatto con un banchiere il quale aveva intravisto che era una cosa interessante la stampa del libro. Però Giovanni Gutenberg è andato più in là di dove doveva. Deve pagare la carta, deve pagare il materiale, deve pagare i collaboratori, in sostanza fallisce, mangiano anche la casa e non stampa più niente. Qualcuno dice che ha stampato ancora due libri, ma noi siamo un'associazione di archeologia, se non vediamo le cose quelle sono tutte supposizioni. Quando però stava stampando, abbiamo detto dal 1454 e 54 al 1456 la voce è corso in tutta Europa perché hanno intuito che oltre a essere una scoperta importante per la civiltà era anche un business interessante. Infatti dopo è diventata una delle prime industrie in Europa e molti sono venuti da tutta Europa sia per vedere e anche aiutarlo a stampare ma soprattutto per rubarli diciamo così questa invenzione e poi farla propria e quindi approfittarne. due di questi sono anche i due che dopo sono venuti a Sant'Orso due tedeschi. Cosa succede nel 1462 qualche anno dopo? Succede che a Maronza c'è un finimondo c'è una guerra civile c'è un vescovo conte che comandava Maronza e viene sostituito dal papa insieme all'imperatore viene sostituito da un altro di loro gradimento il vescovo conte precedente era uno che era voluto dal popolo quindi non vuole andarsene il popolo sia ribella succede le solite cose insomma terribili che succedevano allora chi ha assistito con Gutenberg all'arte della stampa si ferma non possono fare nient'altro finché verso il 1470 allora pochi anni dopo pensano proprio di andare da qualche parte a stampare e dove vanno? a Venezia perché Venezia allora era la città più ricca del mondo era quella che aveva i traffici più estesi ed era soprattutto quella che accoglieva tutti e li finanziava anche purché portassero ricchezza portassero soldi quindi una ventina di questi tedeschi vanno si spostano a Venezia o Padro o a Treviso o appunto poi vengono anche qui e fra questi c'è un in questo caso non è un tedesco ma un francese di Parigi Nicola Jenson che aveva aiutato Gutenberg viene viene a Venezia e stampa i più bei libri per dieci anni stampa proprio i libri di riferimento inventa un carattere romano molto bello per dieci anni stampa e dei documenti diventa ricco veramente nel 1482 muore e gli eredi vendono la bottega la stamperia e si fa avanti un certo Andrea Torresano d'Asola Asola è un paesino del Mantovano ha 32 anni questo acquista tutto non l'aveva mai stampato ecco è uno dei primi stampatori italiani perché anche gli italiani sanno fare cose però viene dopo Enrico de Santorsio italiano anche lui nel tempo comunque si mette a stampare anche lui i più bei volumi che si sono mai stati stampati per dieci anni nel 1494 arriva alla sua bottega uno che si presenta come Aldo Manuzio romano Andrea d'Asola dice beh cosa fai qui sei un stampatore ma che dice non so neanche come si fa stampare però dice sono venuto a Venezia perché ci sono tutti i classici i classici greci che è la maggioranza dei libri di allora dei classici che io voglio stampare in caratteri greci nessuno ne aveva fatto se non sporadicamente in caratteri greci tanti auguri fa questo Andrea d'Asola però si accorge Andrea d'Asola che effettivamente questa è una cultura stesissima intelligente e questo altro Manuzio continua a frequentare questa bottega anche perché è la migliore di Venezia continua a frequentarla però a un certo momento non parla più con Andrea d'Asola sulla stampa parla con una ragazzetta che girava lì a portare il vino l'uno all'altro la figlia di Andrea d'Asola che dopo qualche anno la sposa e quindi Andrea d'Asola grande stampatore diventa il suocero di Aldo Manuzio quindi Aldo Manuzio ha trovato il riferimento per stampare perché Aldo Manuzio è riconosciuto come più grande stampatore di tutti i tempi per rivoluzione alla stampa cioè lui intanto crea un'accademia cioè un gruppo dei più grandi cervelli che c'erano allora in Europa a cominciare da Erasmo da Rotterdam ma poi c'è Poliziano c'è Piccolo della Miranda c'è Pietro Bembo e anche un Niccolo Leoniceno da Leonigo e tanti altri erano una trentina magari poco conosciuti ma erano veramente quegli umanisti che poi hanno fatto grandi cose e perché si riunivano si riunivano perché allora andavano alla ricerca del manoscritto di quella determinata opera per esempio di Platone di Aristotele il manoscritto ma si dice che Aldo Manuzio una volta sentendo che a Parigi c'era un manoscritto interessante ha preso il cavallo e è andato fino a Parigi a prenderlo o a copiarlo e dopo aver esaminato questi manoscritti ne facevano l'edizio Princeps l'edizione di riferimento se adesso uno vuol stappare la Divina Commedia deve per forza copiare la Divina Commedia di Aldo Manuzio nel 1502 quella la Divina Commedia ha riconosciuto quella più autentica quella che presumibilmente ha scritto proprio Dante l'altro motivo per cui Aldo Manuzio è il più grande stampatore di tutti i tempi è che in un certo momento si è accorto che questi libri chiamati incunabili noi li abbiamo chiamati incunabili quelli che sono stati stampati fino al 1500 dalle origini della stampa fino al 1500 erano comunque molto costosi cioè erano molto meno costosi dei manoscritti però comunque costosi perché erano grossi perché contenevano dentro ci mettevano altre se magari era Divina Commedia ci aggiungevano qualcos'altro che si riferiva a Divina Commedia mettevano qualche qualche disegno e quindi appesantivano il libro diventava un librone costoso lui inventa il libro economico cioè un librettino anche di dimensioni tascabile dentro c'è solo solo il testo non c'è nessun commento niente c'è solo all'inizio una paginina di introduzione dove dice questo manoscritto abbiamo trovato di qua e di là e ci scherza sopra su altre cose così della sua vita una paginina e poi solo il testo che è quello che è importante quasi sempre edizio edizio princeps di riferimento se uno vuole stampare quell'opera lì esser sicuro che sia quella autentica deve riferirsi a questi edizio princeps e quindi il libro economico rivoluziona un po' tutto cioè quelle stampate da Aldo si chiamano Aldine ma anche gli altri stampatori le copiano e si chiamano Cinquecentine allora nel 1515 Aldo Manuzio muore dopo il 1515 finisce la storia del libro cioè anche la qualità del libro la curatezza tutte queste cose declina declina la storia del libro finisce con Aldo Manuzio anche perché ha compiuto tutto quello che doveva compiere nella stamperia del libro non c'era nient'altro in fondo da inventare c'è sempre qualche bel libro e ce ne sono stampate recentemente a Verona nel dopoguerra costosissime proprio perché stampati bene non vuol dire che sia antico però quando qualcuno mi dice io ho una Cinquecentina a casa la prima cosa che dico è ma che anno c'è perché sempre sul frontispizio ce l'hanno di che anno c'è perché se prima nel 1515 anche nel 1530 quel periodo ha valore e sicuramente è un libro importante dopo il libro de Cassa almeno c'è sempre l'eccezione è interessante dire che Aldo Manuzio adotta questo marchio tipografico famoso l'ancora col delfino che ci gira attorno e il moto festina lente che è un moto latino ma guardate che vale molto anche per chi lavora adesso cosa vuol dire festina lente dati da fare lavora sempre piano però lentamente è un contrasto ma non è vero cioè quando fai qualcosa tu devi sempre rifletterlo altrimenti altrimenti fai pasticci e quindi la sua sapienza anche lui era un imprenditore perché aveva messo in piedi un'industria importante e però stando sul suo lavoro aveva sempre in mente festina lente lati da fare ma però rifletti su quello che fai molto importante anche adesso bene in questo contesto che abbiamo esaminato vediamo un po' la storia della stamperia di Sant'Orso e ci diventa più facile allora a quei tempi a Sant'Orso c'è un tale che si chiama Enrico de Santo Ursio de Caseno vive qui a Sant'Orso de Caseno già ci dice che era un ricco perché Caseno allora voleva dire il palazzo insomma quindi era già un ricco ed era un cartarius uno che vendeva carta che abbiamo detto era molto costosa e contemporaneamente un librarius perché quando vendeva e la carta a chi aveva cominciato a stampare non si faceva dare dei soldi si faceva dare una parte dei libri stampati e quindi doveva rivenderli e diventava anche un librario in quel periodo nel 1474 incontra ma lo conosceva già probabilmente un certo Leonardo Akates che aveva stampato tre libri a Padova uno appunto che aveva aiutato Gutenberg e lo convince a venire a Sant'Orso perché perché a Torre del Vicino c'era una cartiera una delle più importanti in Italia non si sono fatti studi approfonditi in merito però a Catrano doveva essere un'altra cartiera due ville di sicuro forse a Siero però quella di Torre del Vicino era famosa quindi aveva la carta che era il costo più alto del libro aveva la carta a disposizione senza doverla portare a Torre del Vicino con un carro che magari pioveva che succedeva qualcosa c'era a disposizione forse anche un prezzo inferiore ma io ho fatto un accenno che poi è ripreso qui anche dalla giornale di Vicenza di oggi è una mia idea della mia esperienza la so io che io ero commerciante di tutto il mondo il macchinario è sempre molto importante conoscere la lingua se non conosci la lingua fai fatica a capirti Enrico de Sant'Urseo era quasi di sicuro un tedesco venuto da queste parti in quel periodo lì in quel periodo lì parliamo del 1474 i tretti parlavano tutti tedesco io mi chiamavo Suster dei documenti quindi dei sostere venivano i miei e quindi era facile che anche questo Enrico parlasse tedesco è una mia supposizione però questo avrebbe facilitato il dialogo fra i due e l'arrivo a Sant'Orso di Leonardo a Cates Leonardo a Cates si mette a stampare a Sant'Orso allora stampa tre libri ma non vuol dire la quantità stampa un Petrarca fra i tre libri tutti interessanti ma un Petrarca cioè le rime del Petrarca che è la quinta edizione due edizioni sono scomparse cioè non si trovano più nessuno ne ha più viste quindi tre che si possono confrontare quella stampata a Sant'Orso è assolutamente la più bella che esiste il mondo ecco una pagina si trova alla Bertoliana questa qui cosa succede? arriva nel 74 fine il 74 si sposta a Vicenza va a stampare a Vicenza e finisce il nostro discorso perché a noi interessa sulla stamperia di Sant'Orso perché va a Vicenza è naturale insomma non è per depreciare Sant'Orso però a Vicenza c'era un'università poco prima era una delle città più alta cultura c'erano degli umanisti molto importanti e quello lo aiutava a stampare a trovare il manoscritto a farsi aiutare invece voleva anche un aiuto per stampare un libro e quindi si sposta a Vicenza e stampa dei bellissimi libri a Vicenza e continua così e il nostro Enrico de Sant'Orso rimane liberaria però ha un altro amico si chiama Giovanni Del Reno e anche lui aveva stampato due libri a Padova e lo invita e lo convince a venire a Sant'Orso a stampare anche lui Giovanni Del Reno stampa otto volumi tutti molto interessanti e tutti belli ne vediamo uno ecco importante così l'impaginazione i caratteri i semplici questa è una delle pagine che potete leggere in Santo Ursio distretto di Vicenza Giovanni Del Reno in Pressit 65 1465 per tutto il 1665 lui stampa questi otto libri non c'è tempo adesso di descrivere uno però ma sono molto importanti anche come contenuti anche Giovanni Del Reno alla fine in 75 si sposta a Vicenza a stampare per stesse ragioni non si può dare torto a San Diego di Santo Ursio a questo punto non ne cerca un terzo va anche lui a stampare nel 1480 il primo libro a Vicenza incontra pescherie vecchie compra una casa e mette su una stamperia e si mette a stampare e stampa parecchio però è un commerciante io ho potuto vedere i libri che ha stampato neanche uno di bello sinceramente interessanti diventa il stampatore di riferimento a Vicenza lui stampa più di tutti ci sono gli stampatori bravissimi eccezionali però lui diventa il capo gestisce un po' la situazione perché c'è sempre bisogno di tante cose di autorizzazioni a parte di Venezia a stampare proteggeva quelli che stampavano a Venezia mentre lui riusciva a stampare nonostante gli intoppi che poneva a Venezia quindi era uno commerciante non abbiamo visto un libro eccolo qui è quello è quello da cui dal quale sono tratte quelle due pagine che voi avete e sul frontispizio vedete Sant'Orso perché ha in mano il palo fiorito quando lui è morto qui a Sant'Orso quando è morto aveva un palo e quando sono suonate le campane improvvisamente il palo è fiorito quindi è Sant'Orso qualcuno ha commentato diversamente per me è tanto semplice è lì va bene abbiamo fatto quindi un'analisi della stamperia di Sant'Orso mi sembra tanto semplice è stata complicata un po' da tutti ecco un punto base se voi dovete entrare così a conoscere meglio la storia della stamperia di Sant'Orso punto base si trova nella storia di Vicenza quei volumoni 4-5 volumoni rossi di copertina molto importante è una storia di Vicenza molto conosciuta e dentro ha scritto Angelo Colla che è un mio amico molto amico e lì fa un'analisi va a fare uno studio approfondito su tutto quello fa una grande ricerca e poi fa la storia della stamperia di Sant'Orso molto molto anche approfondita e molto precisa il riferimento è quello lì cioè la storia di Vicenza ne è riposa negli anni Ottanta dopo non è stato fatto più nessun studio a nessuno ecco però è abbastanza semplice quello che è importante lo ripeto ancora non è tanto questi che vengono quello che è importante sono i libri che sono stati stampati a Sant'Orso da Enrico de Sant'Ors Sant'Orsano a Vicenza allora se li mettete tutti assieme lì li avete tutti sono 42 tutti i capolavori anche quelli di Enrico di Sant'Orsio come contenuti però non amava tanto la stampa insomma amava fare i soldi più che senza decressarlo troppo però a confronto con Leonardo Cate e Giovanni Arreno non reggeva non regge il confronto allora detto che apriamo un po' una parentesi adesso detto che i libri sono importanti e le ho detto prima perché non sono studiati non sono studiati ma dopo ne studieremo uno sono studiati perché non possiamo averli in mano non possiamo conoscerli allora io ho un'idea suggerirei qui l'assessore della cultura di Sant'Orsio di fare una mostra di questi libri qui a Sant'Orsio io ne ho parlato con Giorgio Lotto qualche giorno fa e mi aspettavo che lui dicesse beh no sai dar fuori questi libri importanti invece mi ha detto ma io quello che cerco ma non per Sant'Orsio dice come mentalità cerco che questi libri vadano fuori conosciuti perché insomma so che sono di grande importanza per la cultura e per la scienza perché molti sono anche a carattere scientifico e quindi ovviamente bisogna fare un progetto nel senso che non si può prendere i libri e metterli lì bisogna fare una settimana organizzata io l'ho accennato perché l'unica spesa sarebbe l'assicurazione e lui invece l'ha sottovalentata anche perché una decina di libri cioè lui deve avere l'autorizzazione della sovrintendenza della cultura e l'autorizzazione della sovrintendenza la dà solo se la stanza ha gli allarmi lì su abbiamo gli allarmi non c'è problema eventualmente la sera si prende questo fascio di libri perché ce ne servono una quindicina non è che ci servono di più come esempi questo fascio di libri mettendo in una cassaforte quindi insomma l'assicurazione mi sembra infatti non ha dato peso quindi siccome nel 2000 io ho fatto una mostra del libro antico alla fiera di Verona prima a Vicenza dopo alla fiera di Vicenza che ha avuto un grande successo me sono fatta tutta io ho ancora i pannelli a casa quindi come installazione basta avere delle bacheche posso farlo io scrivere sotto cosa sono questi libri insomma 40 anni ho vissuto questi libri veci che mia moglie ogni tanto ancora libri veci adesso adesso non sono bio bibliofilo sono un po' archeologo va bene quindi si potrebbe fare con la pazienza questa mostra è importante ovviamente fare anche delle serate di studio quindi un convegno e io ho già parlato con qualcuno può venire illustrare aggiungere qualcosa di più su questi libri che non sono stati studiati poco va bene e quindi ecco passo passo ne parleremo la vedrei molto bene una cosa del genere che non costerebbe niente salvo l'assicurazione io avevo in mente se la sopporta la Bertogliana l'assicurazione va bene normalmente è abbastanza costosetta insomma va bene generalmente mi sembra che sia abbastanza chiara la storia della stamperia perché è chiara insomma di questi stampatori così quello invece su cui si deve lavorare non è tanto la storia sui libri che hanno stampato introduco per dare un'idea Maurizio De Rossi no? c'è qui quello lì ah sì sì ti avevo visto prima niente tre giorni fa mi dice che lui aveva i documenti a casa sua 4-5 anni fa è stato fatto ma posso fare altri esempi io perché è fresco l'esempio è stato fatto un convegno mondiale dei notai un convegno mondiale dei notai hanno parlato prevalentemente di un libro scritto lo trovate lì sui notai anno 1490 stampato da Enrico De Santorussio e tutti facevano riferimento a quel libro lì e lui ha tutta la documentazione ti prego di metterla da una parte perché è una documentazione in fondo cioè il primo sono tutte Edizio Princeps anche quelle stampate da le stamperie di Santorso cioè il primo libro stampato sui notai e ancora adesso fanno riferimento a quel libro lì nei convegni mondiali tanto per fare un esempio che è fresco ecco vabbè allora detto tutto questo andiamo passiamo a qualcosa per andare dentro a questi a questi libri a questi volumi e spiegarne un po' l'importanza allora parliamo della storia di Santorso qualche anno fa un libro di Zanella Zanella allora ha fatto l'elenco di tutte le storie di Santorso come dove si muovele tutte davanti tutte le storie di Santorso ed erano una trentina di storie di Santorso che dovevamo vedere e allora parliamo della storia di Santorso perché Enrico del Santo Urso allora a Vicenza nel 1493 trova un manoscritto molto molto importante è la storia di tutti i santi duemila santi quindi vi è un maloppo duemila santi un manoscritto scritto da Pietro di Natale come calciatore che era vescovo di Esolo l'aveva scritto cento anni prima lui trova questo maloppo e dice questo è molto interessante perché dopo che l'ha stampata lui per esempio ci sono state una ventina di edizioni soprattutto in Germania hanno affamato le storie dei santi che poi è molto importante nessuno l'ha analizzato perché si trova dentro della storia autentica la storia dei santi però ci sono tutti i riferimenti e quindi poi anche molto importante perché alla fine del cinquecento il Vaticano ha cominciato a fare i martirologi cioè i libri in cui ci sono tutti i santi mettendoli ognuno per ogni giorno dell'anno e facendo tutta questa storia dei santi il libro di riferimento è questo di Natale stampato da Enrico del Santo Rossio è scritto dappertutto quindi un libro molto importante porta a casa questo malopo e vede che insomma non è così facile stampare un libro bisogna da un monoscritto pagina per pagina interpretarlo vedere correggere e non se la sente allora chiama ad aiutarlo un certo Antonio Verla della famiglia di Verlato di Villa Verla che aveva terreni in tutto l'Alto Vicentino ricco umanista che va a aiutarlo infatti dopo eccolo questo è il frontespizio e qui sotto Antonio Verla fa un distico dice in decasillabi è scritto lì cioè una poesia per illustrare il libro e poi dentro ci fa Antonio Verla fa un'introduzione di due o tre pagine molto lunghe per spiegare dove l'hanno trovato a questo libro queste storie i due si mettono lì su questo quando hanno scritto passano le pagine lo trovano la storia di Sant'Orso nel colofon perché allora non c'era il fontespizio c'era il colofon dove indicavano chi stampa e lì non c'è e sarebbe stato stampato da Enrico de Sant'Urssio uno dice de Sant'Urssio va a vedere chi era questo Santo Urssio non lo trovava dentro non c'era di Natale e non lo aveva messo e allora i due si mettono d'accordo e dicono facciamo un appendice dei Santi Nuperrime fatti santi fatti salti ultimamente perché c'è anche Caterina e la Siena che è stata fatta santa poco prima ci sono delle altre e una ventina di Santi li mettono in appendice e fanno la storia di Sant'Urssio scrivono la storia di Sant'Urssio nel 1493 allora 1493 poi di storia di Sant'Urssio abbiamo qui il solito Eusebio che ha scritto sul monte su mano sui sentieri del monte su mano e scrive la storia di Sant'Urssio naturalmente avvalendo questo 1626 si avvale di questo di Natale perché tutti dicevano di Natale perché i due non avevano messo che l'appendice l'avevano fatta loro il libro passava come libro di Natale quindi 1620 e poi il Barbarano tra i volumi importanti per la storia di Vicentino questo è il volume che parla di Sant'Urssio ci sono parecchie pagine e si riferisce a di Natale anche lui però viene tradito viene tradito da un manoscritto sulla storia di Sant'Urssio fatto da un prete che veniva da Rovigo venuto qua a Sant'Urssio e ha detto ho trovato un manoscritto antichissimo un manoscritto antichissimo e adesso lo traduco dal latino in italiano e c'è il manoscritto la Bertogliana ma poi il manoscritto del manoscritto suo in sostanza vabbè questo manoscritto antichissimo non poteva essere antichissimo non sto qui a spiegarvi perché perché se scriveva certe cose non erano dell'antichità ma erano di un secolo prima e quindi è un falso però è un falso che richiama in tutti i dettagli la vita di Sant'Urssio di Enrico di Sant'Urssio e Antonio Bella tutti i dettagli salvo che ci mette sopra che allora andava di qua come lui l'avesse sempre seguito con una telecamera vabbè e quindi è un falso tutte le altre storie di Sant'Urssio sono anche il Barbarano che ne accenna a questo Biscazza si fa ingannare da questo discorso e più di tutto si fa ingannare Lucio Curtin quando nel 73 pubblica la vita la vita di Sant'Urssio di questo Biscazza che vabbè non fa male per carità è romantizzata questa vita insomma ha così importanza però l'introduzione che fa Lucio Curtin che è stato uno dei primi che si è interessato delle storie locali la prende proprio per buono ma qualcosa lo tradisce perché dice ma guarda un po' questo antichissimo manoscritto non si è mai visto qui a Sant'Urssio una volta si diceva è meglio il primo libro stampato su Sant'Urssio l'ultimo libro è dell'anno 2012 di quest'anno per carità che qualcuno non pensi che io sono contrario insomma come gruppo archeologico ci teniamo alle cose mi ricordo benissimo che anche Michele molto spesso quando io accennavo ma c'è un manoscritto così c'è un atto notarile ti ricordi mi ha sempre detto un falso perché li inventavano questi li inventavano perché per esempio avevano bisogno di avere un atto che documentava che era padrone di quel terreno e quindi li inventavano in precedenza quindi su questo non ho niente bravi che divulgano questa storia e poi sempre quella salvo che questo qui è un manoscritto faccio un po' ridere adesso è un manoscritto che si trova a Bertogliana riportato anche dei fogli scritto nel 1900 anno 1900 perché Sant'Ossa è morto nell'ottocento maggio dell'ottocento e quindi era l'anniversario e questo scrive un manoscritto però fa una variante sono sempre le stesse vite di Sant'Ossa fa una variante perché nella storia di Sant'Orso quella allora di Enrico di Santo Ursio quella originaria è scritto che quando Ursio era a caccia era arrivato suo papà nel castello e lui non ne sapeva niente torna dalla caccia va dentro nel va dentro nel castello e trova che sua moglie e suo papà che non l'aveva riconosciuto russavano perché dormivano era stanco del viaggio russavano sul letto a questo che è scritto cento anni fa questa storia non andava il genio che i due fossero a letto ma quando leggiamo qui è scritto che i due si trovavano in una stanza appartata e si abbracciavano e si baciavano io non so cos'era più scandaloso cos'era più scandaloso dei due però sono sempre correzioni che deturpano un po' la verità noi archeologi va beh finiamola con la storia di Sant'Oso per carità ripeto ancora è sempre bello anche se è romanzata questa storia non fa male però noi archeologi che andiamo a ricerca di verità andiamo alla fonte dobbiamo comunque fare un appunto a Enrico di Sant'Ossio che ha scritto la storia di Sant'Ossio adesso Michele mi aiuta allora ci sono due anacronismi voi ce l'avete lì la documentazione leggetela allora c'è un primo anacronismo c'è scritto che quando il Papa gli impone di andare a cercare il Montessumano lui parte per 12 anni non so se non deve essere su quel manoscritto deve essere scritto sull'altra parte per 12 anni Giremo va a Gerusalemme invece di andare al nord a cercare il Montessumano e va a Santiago di Compostella questo nell'ottocento io adesso giugno il quinto viaggio che faccio a Compostella la tomba di San Giacomo di Compostella è già una tradizione è stata scoperta nel 914 quindi cosa andava a fare a Compostella era un campus stelle Compostella un campo di stelle non c'era niente di tomba di San Giacomo e lui invece ci va che vuol dire un anacronismo c'è qualcosa va beh insomma l'altra questione invece è che quando Orsolo diventa santo arriva qua sul Montessumano va verso il Montessumano dovrebbe arrivare a Santa Maria di Sumano scritto nel racconto anche quello è il dubbio che ci fosse su nell'ottocento un monastero va beh e però insomma quando arriva sotto il Montessumano qui vicino incontra una serva è scritto e c'è un nome anche questa serva che viene giù dal castello e viene giù due volte gli chiede l'acqua e lei non le dà l'acqua ma da quale castello nell'ottocento? è sempre stato detto e soprattutto Michele tu insisti che il castello di Sant'Orso non è prima del 1100 quindi dell'ottocento non è sicuro ecco ma insomma anche qui è riportato il giornale di Vicenza che sono cose errori che uno può fare dopo c'è la sostanza del racconto però questi due questi due anacronismi è da mettere in evidenza e quindi anche con la storia di Sant'Orso abbiamo un po' messo messo i punti Michele tu tu sei d'accordo che bisogna andare alla ricerca facciamo archeologia per quello dove andiamo trovare i coci per vedere se è dell'epoca dell'età del broso o dell'età del ferro quindi anche qui è giusto mettere i puntini su lì e adesso affrontiamo un discorso abbastanza delicato che è un po' un po' un po' come si può dire tanto difficile a capire ma però bisogna andarci un po' dentro di un qualche cosa che c'è sempre in questa storia di Sant'Orso in quel libro del 1493 per cui io l'anno scorso c'è talmente non è cosa di farina nel mio sacco incontro il professore dell'università di Torino di storia moderna e quando sente Sant'Orso mi va ah Sant'Orso quel paesino sotto il motus umano sì ah ne parliamo noi università di Torino di Sant'Orso perché a miseria cosa ha combinato questo Sant'Orso e allora mi racconta quello che adesso vi vado a raccontare che lui mi ha raccontato è qualche cosa di delicato e di molto interessante dal mio punto di vista tanto per stare preciso cerco cerco di punteggiare un po' tutto quello che si riferisce a questa storia allora quando il nobile Ursio compiuto il delitto è preoccupato della salvezza dell'anima a quei tempi veramente andare in paradiso andare in inferno non era la stessa cosa adesso per noi sì ma per loro la salvezza Sant'Agostino tutta la vita trattato della salvezza dell'uomo va dal Papa e come è scritto nel racconto ci va è scritto per avere la penitenza dovuta e c'è scritto due volte penitenza voi ricordate che invece a quei tempi c'era l'indulgenza plenaria bastava a Ursio andare con un sacchetto di monetine li metteva davanti al Papa e Papa che ha la chiave del paradiso diceva ti do l'indulgenza plenaria vai al paradiso se ne tornava col suo cavallo in Dalmazia è finito lì invece lo fa girare le fa penitenza e lo fa girare la ricerca del Montessumano per 12 anni scritto da qualche parte quindi è un cambiamento cioè dalla misericordia divina attraverso il Papa ti fa andare in paradiso per un'indulgenza no no devi guadagnarti il paradiso cosa succede 25 anni dopo c'è un errore questo giornale di licenza non importa di date va bene 25 anni dopo il 1493 quando è stata scritta la storia di Sant'Orso dei due nostri amici c'è un certo Martino Lutero eccolo qui e c'è scritto lì qualcosa di fianco che scrive le famose 95 tesi queste tesi cominciano proprio con la parola penitenza cioè il paradiso uno se lo deve guadagnare per guadagnarti il paradiso dice Martino Lutero devi darti da fare nella vita e aver successo quindi cosa vuol dire aver successo o diventare un potente o diventare ricco poi si spinge ancora più in là e lo sapete anche voi e dice che le persone si dividono in due classi anche tutti noi una predestinata e qui viene la predestinazione lui era un gostiniano una classe è predestinata dall'eternità perché Dio sa tutto ovviamente dall'eternità sa cosa succede a noi se andiamo in paradiso quindi siamo predestinati ma è superficialità dopo altri l'hanno sconfessato allora c'è una classe predestinata dall'eternità al paradiso attraverso la grazia quelli che hanno ricevuto la grazia e sono i ricchi potenti evidente insomma chi ha avuto successo quelli che hanno ricevuto la grazia da Dio invece tutti gli altri che sono i poveri lo si vede vuol dire che Dio non li ha non li ha beneficiati della grazia e quindi non tutti probabilmente ma quasi tutti sono destinati all'inferno naturalmente come sapete questa riforma crea in tutta Europa un pandemonio Erasmo da Rotterdam che abbiamo accennato prima era l'intellettuale di riferimento allora in Europa non ci sta a questa faccenda non era poi un religioso ma Releofile ha discussioni fortissime contro Martino Lutero che in fondo era un genio e scrive Erasmo da Rotterdam parecchi libri finché si stanca anche insomma e lui ribadisse come la chiesa precedentemente per andare in paradiso e dopo la finisce dopo averle le dette chiare occorre aver fede in Dio aver fede in Dio sentirlo proprio dopo che uno dialoga con Dio capisce che Dio è essenzialmente buono non può non essere buono perché sarebbe il diavolo se fosse cattivo no? è buono e quindi sicuramente userà misericordia e ti porterà in e ti porterà in 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 paradiso e quindi c'è sempre questa speranza quando una fede in Dio c'è la speranza c'è la speranza che Dio allora usi misericordia una volta si diceva sempre Dio misericordioso adesso non si dice più vabbè essendo lui misericordioso con te anche tu devi essere misericordioso con il tuo prossimo quindi fede speranza e carità la fede speranza e carità con questo dice Erasmo da Rotterdam si va in paradiso con altre storie contorte sulla predestinazione ma vorrei raggiungere così la nostra cultura oltre a Erasmo da Rotterdam c'è un altro che parla chiaro su questa faccenda che è il Vangelo concretamente Gesù Cristo e sapete tutti anche lui divide gli uomini in due classi i ricchi e i poveri però ribalta il concetto di Martino Lutero e dice beati i poveri perché di loro regno dei cieli e Beatitudini è proprio il mattone principale del Vangelo ma dall'altra parte dice piface un cammello passe per la colonna di un ago che un ricco vada in paradiso quindi esplicito proprio poi è pieno il Vangelo di questo voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e le opprimono quindi anche i governanti che andavano a genio a Gesù Cristo e poi c'è la parabola del ricco e bulone che bisogna leggere insomma è veramente in buona sostanza nel Vangelo Gesù parla di un solo peccato perché gli altri li perdonano a tutti essere ricchi ma addirittura è un peccato essere ricco il ricco pulone non aveva fatto niente di male faceva solo le feste e però il povero Lazaro gli dava le briciole non faceva niente Lazaro è andato in paradiso e lui all'inferno neanche una goccia d'acqua gli ha dato Lazaro perché gli ha chiesto intingi il dito su un po' di acqua e mettermi un su a bocca no che l'aveva mantenuto a briciole adesso non voglio scherzo sopra un po' quindi il tema penso che sia molto importante e allora diciamo quali sono le conseguenze di questo nuovo modo di pensare del di quel periodo Mattino Eutero ma prima di lui i nostri due amici abbiamo detto prima no che ha detto penitenza penitenza sant'orso no è il santo urso che era andato lì quali sono le conseguenze allora ancora prendo un libro questa volta un vecchio libro libro scritto da un sant'orsano 15 anni fa Giorgio Bile penso che sia presente va bene porta ed è un bel libro scritto bene uno di pochi libri scritto bene e lui fa una situazione della società delle famiglie di sant'orso nel cinquecento nel primo cinquecento siamo sempre in quel periodo avvalendosi dei registri del della parrocchia perché registravano tutto ne fa un riassunto perché scrivevano però in famiglia di cosa vivevano allora c'è scritto qui lui fa un riassunto ho parlato recentemente con lui lui mi ha detto è quello che ho trovato quello che ho trovato ed è quello che ho trovato per ogni famiglia c'era scritto quello che facevano allora il novanta per cento delle famiglie di sant'orso erano contadini a mezzadria vale a dire lavoravano metà anno per loro quando raccoglievano il raccolto l'altra metà del raccolto lo davano al padrone l'altro dieci per cento scrive lui ma c'erano anche i mendicanti lui si dimentica ma mi ha detto che non era scritto i mendicanti nei libri no non scrivevano erano molti dopo sono anche aumentati ma comunque lui scrive che il dieci per cento lavoravano direttamente per i padroni dei terreni che avevano una vila a Sant'orso erano più di uno in Ogarola in primis in Ogarola che poi sono diventati Priuli e avevano una vila anche loro a Sant'orso e gli altri dieci per cento lavoravano come servi direttamente quindi tutto Sant'orso lavorava per il proletario dei terreni praticamente questa situazione non meravigliamoci perché è durata fino all'ultima guerra mondiale io ricordo così parliamo di Sant'orso io ricordo che quando avevo quando avevo tre anni o quattro anni il primo ricordo che ho della mia vita mia mamma mi ha portato dal mio bisnonno che è il trisnonno dell'Alessandra anche se non lo sa trisnonno la contrada immarcante dopo non ci sono più andato non so neanche dove sia immarcante hanno conforto di cognome probabilmente sono rimasti pochi perché questo mio bisnonno aveva tutto figli di essere un baglio ma mi ricordo che mia mamma dicesse mio zio sì c'era un zio un zio che abitava qua ma mi sembra che non abbia poi avuto famiglia va bene comunque questo mio bisnonno aveva 98 anni quindi quando facendo i conti erate 1844 penso a poco quindi immaginate quanto vecchio sono io ho visto uno va bene e questo mio bisnonno era a Mezzadria ma come parecchi altri qui c'era anche diciamo lo sfogo sull'industria ma a Costa Bissara dove abito io adesso e parlo con la gente che lavora così lì non c'erano industrie tutti tutti i terreni erano di proprietà dei Bissari poi dei Bussaccarini successivamente tutti i terreni nessuno escluso quindi erano tutti a Mezzadria e quindi diciamo che il Cinquecento continua la situazione quella reale delle famiglie di Santorso continuano fino alla seconda guerra mondiale e allora parliamo della seconda guerra mondiale penso che ci rendiamo conto tutti quanti che è stato l'abisso della del è stato l'abisso della storia dell'umanità mai mai la società è andata così in basso prima di tutto perché non c'era libertà se prendiamo la Germania l'Italia l'Unione Sovietica libertà ce l'aveva uno solo neanche la sua famiglia perché Mussolini ha fatto fucilare il papà dei suoi nipotini a Verona l'ha fatto fucilare quindi neanche le famiglie erano in sicurezza solo quei tre per parlare dall'altra parte Stalin ogni tanto faceva una purga e metteva dentro qualcuno dei parenti perché non si sa mai quindi mancanza assoluta di libertà non sappiamo poi Lager e Gulag non c'è da aggiungere niente e le due bombe puoi mettere di Hiroshima e Nagasaki insomma si va a guerra finita in agosto sopra un territorio a guerra finita con due bombe si fa un milione di morti bruciati quasi un milione più barbarie così mettiamo dentro tutto insomma la mentalità era quella quindi un abisso quando è finita la seconda guerra mondiale sto finendo e giustamente le università vanno alla ricerca di chi è l'origine di questo modo perché già nell'ottocento qualcuno Max Weber un grande sociologo aveva visto una società nell'ottocento è stata una miseria incredibile e ieri hanno fatto Oliver Twister a televisione vedere questi bambini che morivano di nedi e quindi veniva da lontano questa e vanno Max Weber aveva detto che la colpa era di Martin Lutero protestantesimo il libro è intitola così e vanno a vedere tutti i libri scritti da Martin Lutero esaminano tutto quanto lo assolvono perché in fondo in fondo si contraddiceva sempre e conosceva il Vangelo non poteva andare contro la carità quindi lo hanno assolto studiando hanno trovato che quelli che hanno dato l'avvio a questo nuovo modo di concepire la società sono stati i ricchi mercanti italiani e i ricchi possidenti dei territori italiani perché allora erano i più ricchi e quindi torniamo a Enrico di Sant'Urssio e a Antonio Verla e ho finito se ci sono domande da proporre ad Antonio siamo qua disponibili una piccola cosa quante copie facevano circa di ogni libro allora 600 copie però Antonio Verla arrivava a 1000 copie anche perché erano libri più più commerciabili quindi arrivava a 1000 copie che erano tante 600 copie però è strano che ce l'ho qui nella borsa questi libri noi li studiamo poco però gli inglesi e i tedeschi li studiamo moltissimo e sono tutti catalogati tutti per esempio questo di Natale il libro dei Santi fatto da Enrico e Sant'Urssio l'abbiamo parlato prima sono tante copie perché le tenevano cioè i libri di Santi dentro nei canoni che servivano allora quelli che servivano si sono portati fino a noi quelli che non avevano senso sono scomparsi come quel Falaride che abbiamo visto prima di Giovanni del Reno allora Falaride era il tiranno di Siracusa nel 500 a.C. a un certo momento appare fra gli umanisti la lettera di Falaride scrive una lettera però era un riferimento come si scrivevano le lettere nelle antichità per gli umanisti per copiarle poi si scopre che questa lettera era stata scritta nel 400 dopo Cristo era un falso ecco quindi praticamente non ha più valore e è stata fatta una catalogazione di tutti i libri dove si trovano in tutto il mondo allora mentre di Natale ne sono rimasti su 600 copie che saranno state fatte ne sono rimaste tante mi sorprende meno 300 copie due sono a Bertogliana perché ne hanno due loro perché hanno conservato una cosa importante faceva martirologio sul di Natale e Falaride sono rimaste una decina di copie perché pronto dopo ho trovato che era un falso non è stato più l'operato non ne facevano molte copie proprio perché la carta costava moltissimo quindi era un investimento se ne avessero fatte 2000 copie cominciava a essere qualche cosa però c'era tutto un giro vi ho accennato Enrico Santorsio a Vicenza il giro consisteva che anche Enrico Santorsio per stampare aveva bisogno di un finanziatore che dopo quando vendevano il libro allora ritornava ma era un'impresa fare un libro e quindi non potevano tirare proprio tante copie solo Aldo Manuzio tirava mille copie mi è rimasto un librettino qui si una teoria che era uscita nel gruppo archeologico tempo fa insomma parte questa della carta di Torre Belvicino un'idea che si aveva era la presenza del metallo buono a Santorso per produrre i caratteri mobili non c'entra non c'entra niente no di che cos'erano i caratteri erano di acciaio il punzone la matrice e il punzone di 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 piombo ma si va per l'analogia no non c'è nessuna di stampatori ce n'erano allora abbiamo detto 20 della Germania poi c'erano gli italiani gli stampatori ce n'erano non c'è nessun'altra l'analogia che qualcun altro si è andato alla ricerca della zona dei metalli senti l'età dei metalli comincia nel 1000 avanti Cristo del ferro scusami se i metalli molto prima l'età del ferro che poco mancasse il ferro allora non mancasse c'era un metallo particolare prego Santorso non serviva perché il libro la stampa viene dalle serigrafie Venezia stampato prima ma molto prima di dieci anni prima di Giovanni Guttenberg la Biblia Pauperum e l'ha stampata a sileografie cioè invece di usare sul legno adoperato il legno con tutti i caratteri è stampato prima di Guttenberg con il legno quindi non c'era bisogno di non mi intendo io di acciaio non c'era bisogno di acciaio speciale per stampare su un libro ma per carità ma poi mi sembra che non è che ci fossero proprio delle acciaierie qua in zona insomma si estraeva il metallo e poi cioè non c'è analogia con con qualcosa che cosa era caratterizzata l'alta qualità di quelle copie che lei in quei libri che sono stati staffati qua hai detto che erano di altissima qualità ti sarebbe a dare in mano l'ho detto all'inizio provi a spiegarci perché noi chiaramente non li vediamo mai prima di tutto la carta fatta a mano troviamo dei libri staffati adesso che proprio si perdon ecco prima di tutto la carta fatta a mano che era veramente una bella carta c'è carta e carta la carta primitiva la carta è stata inventata in Cina ma arriva qui attraverso la Spagna nel 1300 insomma da poco ed è fatta proprio artisticamente quindi la carta poi più di tutto i caratteri perché ogni stampatore aveva i suoi caratteri doveva inciderli quasi tutti i stampatori erano quelli che lavoravano orafi erano tutti orafi cioè abituati a lavorare loro e quindi i caratteri la P la S dovevano ognuno inventarsela tra di quelli di Giovanni del Reno che abbiamo visto mi sembrano caratteri simpatici sono proprio distinti legibili i caratteri erano importanti quindi De Genso veramente lui è andato indietro i romani e stampava i caratteri tondi romani molto belli quindi che caratteri erano incisori erano incisori incisori si orafi incidevano ecco e poi l'inchiostro adesso bisogna tirare gli occhi per leggere un libro e lo paravano un inchiostro anche quello ovviamente non chimico si è visto sulla prima pagina se vuoi andare sulla Bibbia qui è veramente l'esempio e c'è l'inchiostro importante insomma lo vedi in carattere proprio brillante anche l'inchiostro e si mantiene fino adesso questo i libri ma è incredibile come si sono mantenuti fino adesso sembrano appena usciti dai torchi tu non si meraviglia c'è una coppia no perché la carta quella era fatta di cose naturali quindi l'inchiostro ugualmente e poi l'impaginazione era simpatica cioè avevano adesso un libro prendevano qualsiasi insomma sfruttano tutta la pagina invece loro lasciavano molto spazio nella pagina per farsi appunti perché gli umanisti prendevano un libro che era abbastanza raro e mettevano le loro osservazioni sopra e allora i libri quelli di allora e qui 42 prende per mano perché sicuramente quasi tutti hanno delle osservazioni delle note di umanisti di allora da interpretare e non umanisti da poco potrebbe essere non so il Machiavelli che ha fatto la nota potrebbe essere nel caso nostro il Palladio che lui diceva si faceva delle note quindi importante il libro in quel senso ma questa decorazione è giunta sempre cioè la decorazione la decorazione veniva fatta lasciavano un spazio per la decorazione cioè non se c'era un anno la mettevano neanche perché doveva essere decorato dopo però questa illuminazione dicono veniva fatta solo su Incunaboli dopo con Aldo Manuzio insomma è una cosa in più però è il momento vediamola questa è una meraviglia come incorniciato ma guardate i caratteri li vedo anch'io adesso un po' vicino così ma guardate che bellezza la chiamavano textura come una tessitura è bello l'occhio guardate e poi vedo che ogni inizio di veramente è fatto bene ogni inizio di frase c'era la lettera era dipinta in rosso una pagina stupenda questa qui più bello di questo libro di Guterne non è stato fatto più niente ce ne sono 5 o 6 esemplari in tutto il mondo fino a poco tempo fa ne vendevano delle pagine farsi che qualcuno si è divertito a vendere a pagina invece che il libro intero aveva di più e succedeva perché basterebbe avere una pagina così per avere un capolavoro io ho trovato interessante la proposta tua di la vostra con i libri stampati a Sant'Ossio volevo ricordare che nel 1974 la ricorrenza dell'anno 500 anni della stamperia a Sant'Ossio l'amministrazione comunale fra l'altra cosa aveva messo una lapide nella casa dove c'era l'antica stamperia in quell'occasione è stata anche istituita la biblioteca di Sant'Ossio parte del 1974 e sempre in quell'occasione è stata istituita una mostra di un paio di incunagoli un paio sì e se non sbaglio no sono sicuro che erano del conte di Schio erano di sua appartenenza credo che uno fosse se non ricordo male i trionfi del del Petrarca cioè quello del 1474 no che non si diceva che c'era una coppia in biblioteca Bertoniana e una ce l'aveva lui una alla Marciana mi dicevano una l'aveva al conte da Schio e credo che un'altra fosse non so se la biblioteca di Bologna o di Trieste quindi credo che sarebbe giusto riprendere questo discorso delle idee una ce l'aveva un antiquario di Torino e io l'ho preso in mano sono stato lì mi ricordo 12 milioni di lire e sono tornato dopo beh a quei tempi era tanto ma non era proprio se no era tanto infatti non l'ho comprata sono tornato dopo un po' di mesi e l'aveva venduta a un appassionato tedesco e se mi ricordo che scusami sai questo quando presentavo mi ha letto la prima poesia e mi venivo quasi da piangere con questo libro guarda che bellezza si diceva che il conto ci era trastata per due giorni perché allora non c'erano sistemi di alarme no? le settanze sono due giorni dopo la venduta ebbè sì ma volevo dire una cosa cioè su internet è in vendita di Natale che poi è anche un mio amico di Bologna 4 milioni 5 mila euro scusate per me vale molto molto di più però può essere stata già venduta uno sforzo della biblioteca ma si trovano in giro questi libri non è che sia proprio per me a meno che non manchi qualche pagina perché allora vale molto molto meno Mari non lo dice questo lo dice all'ultimo momento per me siccome non c'è un mercato proprio così che ti possa dire quanto vale per me i 4 5 mila euro sono veramente pochissimo perché potrebbe essere anche 40 mila a volte proprio c'è chi la mette 40 mila chi la mette 5 mila vuole realizzare se trova in brutte acque non so se è ancora disponibile sarà ma l'ho vista proprio in occasione che mi sono visto certe cose su internet se si va basta andare su internet di Natale Pietro di Natale Vite dei Santi appare in internet e tutto è solo così per dire un po' in fondo in fondo insomma non sono valori inaccessibili qui mi è rimasto un libro del 1613 l'ospedale di Schio è nato nel 1604 il Baratta famiglia Baratta è lasciata una grossa eredità nel 1604 è simpatico ecco i libri perché sono simpatici perché lui è lasciato l'eredità ecco ecco no perché l'eredità dei terreni che aveva e questi miei bisnonni marcanti qui erano a Mesadria sull'ospedale di Schio tra l'altro l'ospedale di Schio era fatto scritto qui solo per quelli di Schio di Santosso e di Magrè non so perché gli altri no sì è interessante anche qui perché per esempio ecco perché sono interessanti questi libri per esempio l'ospedale di Schio dava la dote a cinque ragazze povere però qui ci sono tutte tutte le garanzie perché dice queste ragazze non devono essere parenti di politici o parenti di chi decide perché anche loro si facevano ecco è scritto così e poi l'ho presa anche perché è qui scusate scusate cioè vediamo se lo trovo ecco qui ecco è proprio l'albero dell'isoccoli l'albero dell'isoccoli l'avete visto tutti sia espressamente proibito lo statuto dell'ospedale ai conduttori cioè i mesadri ogni sorte di taglio delle piante di qualunque sorte delle possessioni e beni così vive come morte cioè se cadeva una pianta non potevano utilizzarla a bruciarla perché altrimenti c'era il trucco facevano morire la pianta e dopo le utilizzavano quindi non potevano utilizzare nessuna pianta proprio come l'albero dell'isoccoli ne possino se non bruscare bruscare semplicemente niente altro era proprio ma va bene bene ringraziamo il dottor Antonio Cagliaro di questa serata legata alla storia di Sant'Orso della stamperia grazie ancora grazie a tutti voi Alessandra per forza mi tocca no mi sembrava giustissimo ringraziarlo tantissimo devo dire che finché lei parlava il primo che mi aveva in mente è che sarebbe giusto opportuno fare questa mostra proprio quando lei poi ha detto ci ha suggerito questa cosa stavo già pensando a Giorgio Lotto che comunque fa parte della commissione cultura e quindi sarà subitamente preso in questa e volevo ringraziare anche tantissimo intanto perché doppiamente per un po' per l'esempio nel senso che un orsiano che magari va via però il Sant'Orso che resta nel cuore e per Sant'Orso sotto sotto di nascosto l'ha fatto l'ha fatto tanto perché questa per noi può essere anche un inizio di un percorso che podemos fare per il nostro paese soprattutto mi ringrazio tantissimo anche il gruppo archeologico che sostiene queste cose e mi prendo l'impegno di fronte a tutti di realizzare la mostra in tempi che si potrà insomma prima possibile e poi lo so il libro sarebbe meraviglioso poterlo acquistare adesso però ecco mi credo che questo incontro sia importante per Sant'Orso per quanto ripeto nel passato la storia eccetera che ha sempre avuto una grande una grande influenza su questo paese ma è come adesso che ho bisogno di fermare le cose perché va troppo veloce ho bisogno di fermarsi di tenersi sicuro che sennò spariria quindi ecco mi ringrazio tantissimissimo e mi auguro di poter continuare a fare queste queste cose grazie anche alla collaborazione del gente che vuoi bene a Sant'Orso grazie so che tu sei un po' un'altra cosa voglio dire che non so se mia nonna era marcante sì quindi voglio dire no ti l'ho detto era tu era tu tre snonna e volevo parlare di lui e mi diceva che 98 anni aveva quando l'ho visto io vale no ti dico ti dico no no mia nonna no mio nonno mia nonna sì sì tua nonna sì che l'ho conosciuta anch'io l'ho conosciuta bene era cugina di mia mamma no cugina e poi va beh insomma si arriva si arriva a questo bisnonno e trisnonno adesso ti dico una cosa però a riguardo allora era analfabeta no leggeva non scrive ovviamente no però aveva memoria e vangelo e parlava e vangelo e poi era interessante che parlava come un patriarca parlava per proverbi me ne ricordo solo uno perché mia mamma mi ricordava mio nonno diceva così allora il tempo che oggi hai domani più non l'avrai è semplicemente interessante però diceva così uno degli esempi che facevano quelli patriarchi sai io l'ho visto e adesso fotografia per chi desidera adesso andiamo ad aprire il museo archeologico è eventualmente visitabile e si può visitare anche la mostra di fotografie entomologiche di insetti del summan grazie